Per mettere in sicurezza c'è un progetto ben preciso? Sì, un lavoro di un anno e mezzo, quasi due anni, che ha fatto un tavolo nominato dalla regione, qui hanno partecipato tutti i diversi soggetti coinvolti, ASL, Parco, ARTA, gestori eccetera, che ha prodotto un'idea, una proposta che noi consegniamo nelle mani dello Stato, perché siamo di fronte a un problema dello Stato italiano, non dell'Abruzzo. D'altra parte lo Stato ha già riconosciuto che è un suo problema, lo ha riconosciuto da anni, quando per esempio qualche tempo fa nominò un commissario, il quale parecchi anni fa ha fatto una prima parte di interventi, che evidentemente non sono stati esaustivi. Noi abbiamo lavorato con molta serietà, ci siamo avvalsi tra le altre cose anche del lavoro che ha fatto a stavolta la Procura e che ci ha rimesso e che in gran parte coincide o si intreccia con il lavoro che abbiamo fatto noi e noi a questo punto, alla fine di questo lungo percorso, abbiamo identificato cosa lì è possibile fare, abbiamo anche identificato cosa non è possibile fare, perché come sapete noi abbiamo interloquito sia con il laboratorio, sia con l'autostrada e sia con i gestori dell'acqua. Per esempio l'autostrada con l'accordo del Ministero ci ha proposto recentemente un progetto che è la famosa terza canna, noi l'abbiamo respinto quel progetto perché è un progetto oltretutto che non si può più fare essendo in area parco e quindi noi invece abbiamo scelto altro tipo di progetti che è il progetto che riguarda le attività di messa in sicurezza utilizzando quello che già c'è. Ci vogliono 171 milioni di euro? Eh sì, è un progetto, voi dovete considerare che si tratta di impermeabilizzare l'intero percorso, l'autostrada e tutto il laboratorio nelle parti non ancora impermeabilizzate, si tratta di cambiare, di intervenire cambiando tutti i dreni, sostituendoli con dreni in acciaio e di fare un grande tubo che percorre, sospeso, in acciaio inox che sta all'interno del tubo principale. Poi si tratta di fare le canale sempre in acciaio lungo il percorso autostradale per l'acqua di scarico, si tratta di fare ai due estremi le due potabilizzatori e si tratta di fare la depurazione per le acque che vanno in scarico. Quindi è un'opera molto complessa e che però è l'opera che finalmente mette in sicurezza quest'acqua.